e quindi a comparire qua nel main stage Silvia Montanari, la nostra prossima speaker Silvia Montanari, buongiorno, eccoci Buongiorno Evaluation Specialist a Chiesi Farmaceutici Il suo intervento si intitola Opportunist Evaluation Group in Chiesi Farmaceutici, un ponte tra scienza e business Quindi io lascio la parola a Silvia Montanari e ricompaio fra un pochino A dopo Grazie e buon pomeriggio a tutti Sono Silvia e sono felice di rappresentare oggi qui l'unità in cui lavoro che è appunto l'Opportunity Evaluation Group all'interno del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo in Chiesi Farmaceutici Vorrei iniziare questo speech partendo dalla condivisione con voi di alcuni dati che penso siano molto rilevanti per tutti noi che lavoriamo nel mondo dell'innovazione in particolare nell'area biofarmaceutica e delle scienze della vita Se guardiamo infatti a questo grafico dove vediamo i farmaci che sono stati approvati dall'agenzia americana FDA tra il 2011 e il 2016 potete vedere sulla sinistra come il 65% di queste molecole quindi più dei due terzi è stata scoperta o inventata da un'azienda piccola o di medie dimensioni Se poi invece passiamo alla parte destra del grafico qui vediamo che le stesse molecole sono invece state portate sul mercato quindi portate sul commercio per il 70% dei casi da grandi aziende addirittura tra le top 25 al mondo quindi vediamo che c'è un'inversione praticamente perfetta tra questi due grafici e questo cosa ci dice? Ci dice almeno due cose La prima è sicuramente che nell'ecosistema biofarmaceutico c'è sempre più collaborazione sempre più convergenza tra player diversi e di diverse dimensioni La seconda è che le grandi aziende per completare la propria crescita interna organica cercano sempre di più anche innovazione esterna Se poi non siamo convinti di questo e allarghiamo la visione agli ultimi dieci anni vediamo che addirittura questa percentuale sale all'80% quindi l'80% dei farmaci che sono stati approvati negli ultimi dieci anni da FDA non è stato portato a registrazione da chi era detentore del patent originario o chi ha scoperto la molecola quindi sono sempre di più gli accordi le collaborazioni che avvengono tra aziende diverse e come potete vedere nel grafico sotto questi accordi avvengono sempre prima perché addirittura nel 70% dei casi avvengono prima della fase 2 che se vogliamo è la fase clinica in cui abbiamo una prova di concetto clinico del farmaco addirittura vedete che la maggior parte di questi avviene in preclinica quindi le aziende cercano sempre di più innovazione esterna e possiamo dire che la cercano sempre prima un esempio molto vicino a noi di questo può essere quello dei vaccini per Covid-19 se pensiamo infatti che la maggior parte dei vaccini che oggi sono in una fase di sviluppo più avanzata derivano in realtà da collaborazioni tra un player più piccolo che magari possiede la tecnologia e un'azienda invece più grande che è in grado poi di portare ad industrializzazione il prodotto di conseguenza si cerca sempre di più innovazione esterna ed è proprio qui che noi ci posizioniamo all'interno di chiesi come Opportunity Evaluation Group in quanto ci sono sempre nuovi progetti nuove opportunità esterne da screenare e da valutare siamo infatti un gruppo eterogeneo dal background principalmente scientifico siamo all'interno della ricerca e sviluppo e quello che facciamo è proprio dare un supporto nella valutazione di opportunità esterne per potenziali licenze, acquisizioni o anche altri modelli di accordo che sempre più vengono messi in piedi e quindi siamo un supporto scientifico e tecnico alla valutazione di questi prodotti e ovviamente abbiamo dovuto sviluppare nel corso del tempo un metodo consistente e affidabile per poter condurre queste valutazioni siamo quindi in continua interazione con una serie di altre funzioni interne come potete immaginare sia all'interno della ricerca e sviluppo che altre funzioni come il corporate development corporate marketing e altri stakeholder che agiscono nei diversi step della valutazione quello diciamo che ci proponiamo come missione è quella di essere un ponte un ponte tra che cosa? un ponte tra la scienza e il business la scienza che è un po' il nostro pane quotidiano quindi le valutazioni tecniche quello che appunto andiamo ad analizzare a livello scientifico per poter però tradurre tutto questo in qualcosa che possa essere utile anche alle funzioni di business e che possa poi permettere quindi di portare ad accordi che facciano entrare nella nostra pipeline o nel nostro portafoglio dei composti che siano scientificamente validi se vogliamo fare una metafora quello che facciamo è un po' cercare lago nel pagliaio o se vogliamo cercare la pietruzza d'oro nel greto del fiume cioè in realtà un lavoro di screening enorme come vedete dal 2013 abbiamo valutato più di mille opportunità e quindi è una valutazione costante con la maggior parte del lavoro che si concentra proprio in questa fase iniziale di screening per fare una valutazione preliminare e capire anche sulla base degli obiettivi e delle strategie dell'azienda quello che per noi può davvero rappresentare un'opportunità per chiesi tutto questo ha portato nel tempo a firmare accordi per più di 2 miliardi di euro e ovviamente è un lavoro che come dicevo ci fa interagire con diverse funzioni a livello interno ma anche a livello esterno in quanto lavorando in aree terapeutiche diverse e valutando opportunità in indicazioni molto diverse abbiamo sempre la necessità di avere un contatto diretto con ricercatori, scienziati, esperti, clinici che siano appunto esperti nell'area in cui stiamo valutando quel progetto di conseguenza potete capire che è sicuramente un lavoro molto stimolante che ogni nuovo progetto è un po' come un nuovo viaggio nella nostra valutazione dell'opportunità per darvi un'idea del processo che avviene al nostro interno ci sono tre fasi principali quando valutiamo un progetto abbiamo una fase iniziale di screening una seconda fase di sviluppo di un business case per poi arrivare alla fase finale e più approfondita di due diligence in particolare il tutto inizia con un processo di scouting di opportunità esterne secondo ovviamente gli obiettivi e le strategie dell'azienda per cui ci arrivano una serie di progetti in screening e a questo passaggio noi applichiamo diversi criteri sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista commerciale se questi criteri vengono soddisfatti dal progetto si passa poi alla seconda fase che è molto più diciamo impegnativa e dispendiosa in termini di tempo in quanto bisogna andare a definire un business case che non è soltanto una rappresentazione di quello che conosciamo ad oggi del progetto ma è anche una valutazione prospettica quindi le domande a cui dobbiamo rispondere sono ad esempio quale sarà il piano di sviluppo del farmaco nel tempo quali sono i costi i tempi e le probabilità di successo associate e di conseguenza qual è il valore che possiamo attribuire a questo progetto se questa fase viene completata con successo dopo una offerta non vincolante si passa alla fase di due diligence che è la fase investigativa e di verifica molto più approfondita per poi sperabilmente arrivare quindi alla negoziazione di un accordo e alla firma dell'accordo stesso per darvi un'idea delle numeriche diciamo a livello quantitativo dei progetti che abbiamo visto nell'ultimo periodo e anche del tipo di filtri che applichiamo negli ultimi anni abbiamo valutato tra i 150 e le 200 o 300 opportunità all'anno anche in fase di screening e solo una parte di queste ovviamente è passata alla fase successiva di sviluppo di un business case di queste di nuovo una piccola percentuale come potete immaginare ha superato tutti questi passaggi per arrivare alla fase di due diligence e qui siamo quindi tra un 15 e un 30% secondo appunto gli ultimi gli ultimi anni cosa guarda un'azienda come Chiesi e quindi quali sono le domande che ci facciamo soprattutto in una fase appunto iniziale di screening dell'opportunità beh qui possiamo identificare due macro aree la prima è quella del mercato di riferimento e in questo senso della patologia quindi dell'indicazione per cui il farmaco poi sarà indicato quindi in questo senso stiamo guardando alla cornice del quadro quindi definiamo il perimetro all'interno del quale vediamo l'opportunità e dal punto di vista scientifico quello che dobbiamo andare a fare è qui approfondire tutto quello che riguarda la potenziale indicazione del farmaco dai segni e sintomi a qual è la patofisiologia della malattia e quindi i potenziali meccanismi d'azione che possiamo applicare quali sono le cause qual è l'epidemiologia che ci definisce l'opportunità di mercato come viene fatta la diagnosi se ci sono anche dei problemi di sottodiagnosi nei pazienti qual è il viaggio il percorso che il paziente fa dalla diagnosi al trattamento e quali sono i trattamenti ad oggi disponibili sul mercato per questi pazienti di conseguenza andiamo a definire anche quelli che sono i bisogni insoddisfatti cioè quali sono oggi i gap che sono presenti nel trattamento di questa specifica indicazione quali sono altre aziende che stanno sviluppando altri prodotti e quali sono gli approcci e i meccanismi d'azione che vengono studiati all'interno di questo contesto tutto questo ci dà come dicevo la cornice del quadro se vogliamo e poi passiamo all'opportunità vera e propria quindi il quadro stesso e qui rispetto al progetto di riferimento andiamo a capire la fase di sviluppo andiamo a capire qual è il meccanismo d'azione che ci sta dietro qual è la tecnologia e quali sono ovviamente i dati scientifici che fino ad oggi la controparte ha dimostrato per quanto riguarda sia dati a livello preclinico che dati a livello clinico dobbiamo anche andare a capire se ci sono state delle interazioni regolatorie ad esempio con le agenzie e tutto questo ci porta a definire un profilo di prodotto target che per noi è molto importante perché rappresenta un po' la carta d'identità del nostro progetto e soprattutto andiamo anche a comparare questo profilo di prodotto con il profilo dei prodotti che sono già già disponibili sul mercato oppure che sono in sviluppo da altre aziende in modo da capire quale può essere veramente il valore associato a questo farmaco e quali possono essere i suoi vantaggi o anche i suoi svantaggi per tutto questo ci porta ovviamente poi ad avere un'opinione finale che debba tenere in conto come potete capire di tutti questi aspetti sia dal punto di vista della patologia che dal punto di vista dell'opportunità nonché le considerazioni anche strategiche della nostra azienda per accedere a tutta questa serie di informazioni e fare questa analisi ovviamente abbiamo sviluppato nel tempo un metodo che ci porta ad utilizzare diverse fonti e anche diversi database in modo da poter avere tutte queste informazioni e mettere insieme se vogliamo tutti i pezzi del puzzle quindi abbiamo sia fonti pubbliche sia database invece per cui abbiamo accesso e ovviamente tutto questo si unisce anche poi alle interazioni che possiamo avere con l'azienda quindi con la controparte e a seconda della fase di sviluppo del progetto possiamo accedere e anche della valutazione possiamo accedere a informazioni più o meno confidenziali dobbiamo andare ovviamente a valutare anche tutti quelli che sono gli studi clinici in corso e quindi a guardare ai clinical trial e anche a fare intelligence rispetto a quello che potenziali competitor stanno sviluppando e la loro fase di sviluppo tutto questo ci ha portato questo lungo processo come potete vedere ci ha portato negli ultimi anni a firmare una serie di accordi crescente in diverse aree terapeutiche di nostro interesse e con player di diverse dimensioni cito solo uno degli ultimi che è un accordo che abbiamo firmato con Moderna che come sapete è una delle aziende forse più promettenti nella tecnologia a RNA messaggero oggi quindi questo ovviamente è una picture di quello che è successo negli ultimi anni ma noi non ci fermiamo quindi un nuovo progetto è sempre alle porte e di conseguenza continuiamo a valutare continuamente nuovi progetti spero quindi di avervi dato una overview sintetica ma di quello che è il panorama biofarmaceutico oggi rispetto alla ricerca appunto di innovazione esterna e quello che un'azienda come Chiesi guarda e le domande che ci poniamo nel momento in cui valutiamo opportunità esterne secondo questo processo che vi ho fatto vedere se avete comunque altre domande o altre curiosità noi vi aspettiamo molto volentieri al nostro stand virtuale e qui trovate anche i nostri contatti i miei di Giulia e Luca dell'Opportunity Evaluation Group in caso aveste altre domande grazie mille grazie mille Silvia grazie mille per questo intervento è perfettamente puntuale perfettamente nei tempi questo è sempre da riconoscere perché quanto pare non è mai oggi lo stanno facendo tutti però rimane una grande eccezione per tutti quindi bene siamo sulla buona strada grazie mille a questo punto ti lascerò scomparire svanire